Julian Assange non verrà estradato, perlomeno per il momento. Il tribunale svedese di Uppsala ha infatti respinto la richiesta di arresto del fondatore di Wikileaks nel processo a suo carico per violenza sessuale. Il pubblico ministero non potrà pertanto richiedere immediatamente la sua estradizione dalla Gran Bretagna. L'australiano, finito in manette l'11 aprile scorso in seguito all'espulsione dall'ambasciata dell'Equador a Londra, si trova in un carcere britannico per violazione della cauzione. L'arresto di Assange, seguito dalla riapertura dell'inchiesta in Svezia, aveva riacceso le speranze della donna che lo accusa di averla stuprata nel 2010. Accusa che il cyberattivista ha sempre respinto, sostenendo che il rapporto fosse stato consenziente.